Cricchetto, che ne diresti di venire a vedere il mondo con me? Sul serio? Andiamo, amico! Dai creatori di Toy Story 3! Questa sì che è bella! Benvenuti al World Grand Prix! Tre gare in tre nazioni diverse e solo una squadra può vincere! Ciao ciao! Vai McQueen! Quale sarà la tua strategia? Aspettare che McQueen sia spompato e vincere! Francesco vince sempre! Che noia! Disney Pixar vi invitano a un viaggio intorno al mondo! Benvenuti a Londra! È americano? Estremamente! Non parlano la lingua! Zio Topolino! A buona cena, si ingrasa! Ha detto che ti metterà l'ingrasso! Cosa? Ma stanno per scoprire che qualcuno vuole fare di questa gara la loro ultima gara! Saetta McQueen! Deve essere fermato! Vieni duro McQueen! Finn McMissile, Intelligence Britannica! Sono l'agente Shiftwell, Ollie Shiftwell! Voi giovani avete le attrezzature migliori! Ci serve il tuo aiuto, Cricchetto! Vi serve il mio aiuto? Sidley? Sì, Finn? A Parigi! Tut sì! Grazie e arrivederci! Ben qui! Cerca di non dare nell'occhio, Cricchetto! Oh, ma vorrei scherzare! Dove siamo? Dentro Big Bentley! Adesso sì che si ragiona! Solo paraurti a paraurti vicino al traguardo! È un tantino eccitato, vero? Cricchetto! 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 Grazie per la visione!